Pericolo sventato almeno per ora Prova a tirare Bel tiro! Sono andati vicini al gol Ci è andato molto molto vicino, un tiro ottimo Lui è andato lontano dalla rete E' evidente che i compagni si affidino sempre di più a lui Questo è il classico uomo squadra L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione Cristiano Ronaldo Palla in avanti verso il compagno Cerca la profondità, sulla fascia Marcello Occhio a cross Se l'è bevuto Disco! Tiro lento, non può creare problemi al portiere Un errore che a questi livelli di solito non si fa Era lì, a due passi dal bersaglio Si avvicina la porta Cerca il tiro E' un grande riflesso qui Ottima la parata del portiere Ha mostrato una gran classe Un'autentica parata distinto questa Fondare al tiro E ancora Non si fermano più, ancora segno E con un vantaggio di tre gol La partita è quasi chiusa Ripetta Che partita eccezionale lo suono E' in uno stato di forma a dir poco strepitoso Si riparte con una differenza di tre gol Non poco Prova la giocata nello spazio Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia Ci mette una pezza Palla in out Ci sarà rimessa laterale Che botta E stava per arrivare addirittura il sesto gol Ha fatto bene a provarci qui Lui da quella posizione sa essere molto pericoloso Prova il filtrante Se la cava la difesa Allontana la palla Hanno tenuto a lungo la palla Forse anche troppo Alla fine gli avversari sono riusciti a interrompere l'azione Vuole la profondità Intercetta il passaggio Pericolo Modric Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione Prova la giocata nello spazio Hazard Lamm Prova la soluzione in profondità Riceve in zona pericolosa Occhio può andare Il controllo non è stato impeccabile Per questo ha perso la palla Arriva Cristiano Donato Marsello Bel pallone Prova il compagno in buona posizione Benzema Grande giocata E vedremo se questo gol Dara loro la forza mentale Per credere Nell'impresa Ha finalizzato la perfezione Questo uno contro uno Non mollano Hanno trovato un gol importante Cross Isco Palla in alto Ci sarà rimessa laterale Riceve in ottima posizione Buona la profondità Chiellini Hazard Robben C'è ancora un lancio Lungo e profondo Modric Prova il filtrante C'è Modric Attenzione Grande chance Da lì può segnare Una parata straordinaria La sua Vediamo se crossa Chiellini Cerca la profondità C'è l'opportunità Per il contropiede Occhio al lancio lungo Occhio al tiro Allontana il pallone Isco Toni Kroos Cristiano Ronaldo Prova la giocata Dello spazio Chiellini Ames Rodriguez Benzema Cerca di superare la difesa Con questo pallone lungo Supera la linea Gol Ci aspetta un finale Intensissimo Dopo questo gol È rimasto in linea Con la difesa Fino all'ultimo istante Per poi partire Al momento giusto E ora è tutto di nuovo Possibile Davvero un gran finale Vuole la profondità Può cercare il taglio in mezzo Situazione spinosa Ma il suo intervento È stato provvidenziale Cerca spazio Ha la possibilità Di andare verso la porta È riuscito a passare Ottimo disimpegno Fondamentale Ruben Che grande parata Sicuramente Non una parata semplice Ed è andato vicino A una nuova segnatura È l'incubo Di ogni difesa Gli avversari Sono tentati Di marcarlo a uomo E questo permette Ai suoi compagni Di sfruttare Gli spazi che crea Finisce così Non c'è più tempo La fame di vittoria È stata quella decisiva Nonostante qualche difficoltà dietro Qualche ingenuità Arriva così Una vittoria importante Hanno trovato subito La via del gol Poi sono stati molto bravi A gestire la gara Senza concedere troppo Agli avversari Una vera prova